Il consigliere regionale Carlo Guccione, il vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria in Socciconte, si sono autosospessi dal gruppo del Partito Democratico. Ieri l'annuncio, in apertura della seduta del Consiglio regionale, c'è bisogno di una rottura netta per invertire la rotta e mancato un confronto all'interno di un gruppo che si è riunito solo due volte in questi quattro anni, un gruppo dove si evidenzia la mancata agibilità democratica. Più volte ho sollecitato una riflessione, ma ha affermato Carlo Guccione, sono rimasto inascoltato. E oggi non vogliamo essere corresponsabili di un fallimento annunciato, vogliamo impedire una deriva che inesorabilmente ci porterà verso una sconfitta. Ecco perché oggi mi autosospendo dal gruppo del PD. È in atto uno tsunami politico e ancora qualcuno continua a far finta che questo tsunami non riguardi la maggioranza. Poche cose purtroppo sono cambiate, basti pensare a quello che sta accadendo nel comparto sanità, un settore sempre più in sofferenza, dove accade che i pazienti vengono ingessati con i cartoni sulla sanità. Infatti siamo punto e d'accapo, dopo l'annuncio del Presidente della Regione Oliverio, di incatenarsi, così come nulla è stato fatto per quanto riguarda la riforma del Guelfar e il piano straordinario per il lavoro. Sono questioni, afferma Carlo Guccione, che meriterebbero l'apertura di una discussione. Ma purtroppo questo non è avvenuto. Dal gruppo consigliare del PD alla Regione continuano ad arrivare segnali sempre più marcati del disfacimento politico di un partito senza più controllo in Calabria.